Oggi Champions, ma prima vorremmo ricordarvi che in campionato il Verona di Juric, doppietta di Baracca, espulso Caprari, battendo il benevento di Pippo Inzaghi per 3 a 1, si è inserito nell'alta classifica. I gialloblu nel weekend sfideranno il capolista Milan. In Champions l'Inter giocherà a Madrid, ma la partita non sarà allo stadio Santiago Bernabeu, bensì all'Alfredo Di Stefano, a Valde Bebas, campo di allenamento delle Merengues. Madrid è la città del triplete nerazzurro e Conte dovrà fare a meno di Lukaku. L'Atalanta sfiderà il Liverpool, campione d'Europa, e Gasperini dovrà far senza Deroun e Gosens. Attaccherà con Muriel e Zapata. Due impegni difficili per le squadre italiane. Domani la Juve a Budapest contro il Ferencvaros e la Lazio sul campo dello Zenit di San Pietroburgo. Più abbordabile il compito dei bianconeri. E speriamo che le squadre italiane restino in corsa.